Filippo Magnigi e Federica Pellegrini perché si sono lasciati? Parla lui. Filippo Magnini parla della fine della storia d'amore con Federica Pellegrini, a lasciarlo è stata lei. Filippo Magnini e Federica Pellegrini erano una delle coppie più amate e seguite del mondo dello sport. La loro storia d'amore aveva appassionato molti e, ad oggi, tanti sono quelli curiosi di sapere perché tra e due sia finita. . A parlare questa volta è stato proprio Filippo che, a Vanity Fire, ha svelato diversi particolari sulla relazione con la campionessa italiana. Lui era molto preso e, nonostante fosse stata proprio lei a lasciarlo, Filippo ha aspettato per un anno Federica. . Sperava di vedere la sua ex ritornare sui propri passi ma, come molti sanno, così non è stato. . Federica Pellegrini, la scelta di sacrificare l'amore per la carriera. . Federica Pellegrini, stando a quanto affermato da Magnini, era molto concentrata sul nuoto e sulla sua carriera quando, nello stesso periodo, ha iniziato a dubitare dell'amore provato per lui. . Mi ha lasciato Lei ha dichiarato Filippo Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita. . Il punto definitivo ad una storia che, al di là di quanto detto in in pubblico e sui giornali, si è dunque trascinata avanti per diverso tempo. . . Per Filippo non è stato facile il distacco da Federica Pellegrini ma, oggi, lo stesso si dice pronto ad innamorarsi di nuovo. . Filippo Magnini, l'addio al nuoto e la voglia di guardare avanti. . . Gli ultimi anni per Filippo Magnini sono stati segnati da decisioni importanti e cambi di rotta. . La fine della storia con Federica e l'addio al mondo del nuoto lo hanno decisamente spinto verso un nuovo capitolo della sua vita. . La voglia di guardare avanti, però, non gli ha fatto certo dimenticare il passato. . Magnini infatti non ha mai perso occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno sempre creduto in lui, a loro deve il suo successo e, per questo motivo, a questi rimarrà sempre legato. .